Buongiorno, benvenuti nel quartiere generale della Surry al Power. Io sono Surry e oggi andremo a fare un botto di soldi. Ciao a tutti che sono te e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online. Come sapete a me piace vestirmi bene, tra virgolette, e ogni qualvolta ne ho l'occasione e ne approfitto. E quale occasione migliore se non quella della registrazione dell'episodio di GTA Online, la Road to Impero Multimilionario o la Road to, non so il preciso che Road to si possa fare. Insomma, è una Road to, ok? Siamo in GTA Online e il nostro obiettivo è fare soldi, su soldi, su soldi, su soldi, un po' come una vita reale. Lo so, sono un materialista schifoso, ma io voglio fare i soldi. Datemi i soldi! Perché la polizia? Che ho fatto? Comunque, mi sono messo lì, ho fatto un paio di missioni, ho raccolto... Perché c'è così tanta polizia? Ma perché ce l'hanno con me soprattutto? Due stelle? Ma cosa ho fatto? Perché ce l'hanno con me? Allora, visto che questi ce l'hanno con me, io mi nascondo, voglio vedere cosa fanno questi. Vi ricordate, nello scorso episodio vi ho detto che avremmo comprato le armi assieme? Ecco, diciamo che non si può defare. Oddio, no, no, mi scopre, mi scopre, mi scopre. Ok, non è vero, non mi vogliono più male. Diciamo che non è più fattibile perché ho fatto un po' di missioni online con il buon Fabio, che non è quello di strisciare la notizia. E ho preso un po' di armi, in realtà c'è anche una mitraglietta che non ho più. Però insomma ho preso delle munizioni, vuol dire che ho delle armi, però non ho più, non ho più la mitraglietta. Allora andiamo a comprarle comunque. Ma che cosa? Si è staccato l'inter... No, mi ha fatto iniziare da dove ero... Sto parlando di soldi. No, di armi, di armi. Si, devo andare a comprare delle armi. In realtà un'altra cosa che volevo fare, oltre a comprare le armi, era andare da quell'icona che trovavo sulla minimappa per fare le missioni. Perché io comunque ho bisogno di soldi in generale e la mia attività, la Surreal Power, è la mia attività principale, ma non è la mia unica attività. Quindi se posso fare soldi in altro modo, volentieri. Non l'ho fatto apposta, scusa. Allora, questo è un ammunition e qui si possono comprare diverse cose. Ad esempio, un giubbotto e altri proiettili. Dovrei aver... Compriamolo. Allora, vediamo quali armi posso prendere. Io volevo, sinceramente, un... Un mitragliozzo. Fucile a pompa, non è un fucile a pompa questo. Ma, io compro questo ragazzi, nel dubbio. Ma i veri uomini ricchi, c'hanno le cose d'oro, non per dire. Ok, ora che ho un bel arsenale, c'è che ho una mitraglietta, una mitraglietta. La diceva fucile a pompa, secondo me è una mitraglietta, raga. Ho sbaglio. Sì, dai. Voglio fargli vedere la mia nuova pila di soldi. Non so, devo ancora lavorare un po' sulla mia auto da persona ricca. Però, stiamo facendo progressi. Almeno questa non ha tutti i finestri rotti. Ciao Cinzia, come va? Tutto bene? Spero di sì. Allora, come avrete immaginato negli scorsi episodi? Ogni volta che facciamo delle consegne, le portiamo a buon fine, ci saranno delle mazzette di soldi, delle cose che compaiono in giro per il mondo. Cioè, per il nostro ufficio più che altro. Vedi, qua ci sono i crattoni di là, quello che sembra latte. Deluda? Che vuol dire deluda? Non lo so. Però, se vado alla mia scrivania, raga, guardate. Cioè, ci sono i soldi anche sotto la scrivania. È bellissimo. È troppo bello. Ora, io mi siedo tranquillamente e vado a progettare il mio prossimo colpo da vero imprenditore che vuole fare i soldi. Ah, pietre preziosa, ragazzi. Andiamo a cercare i diamanti. Io sono comunque convinto che un vero imprenditore di successo abbia bisogno di un autista. Voglio dire. O di un'auto bellissima o di un autista. No, è sempre lì. Eccolo là. Eccolo là. No. Chi è che mi sta sparando? Levatevi. C'è uno con un elicottero che mi sta sparando. Con un aereo che mi spara. Addirittura. Levati. Mi non like that. Allora, se lo vedo, raga, gli sparo. Ho il lanciarazzi e non ho parola di usarlo. Ok, in realtà non vedo nessuno. Quello è il carico. Prendiamo il carico e andiamo, raga. Non so che dirvi. Ah, eccolo. Se si avvicina lo ammazzo. Io non so come funziona benissimo GTA Online. Però ho una mia teoria. Che più salgo di livello, più ogni carico che porto al magazzino acquista di valore. Quindi se io lo pago 18.000, può essere che lo posso rivendere a, non lo so, il doppio? Addirittura? O anche qualcosa di più? Solo che bisogna sempre aspettare di essere nella se... Oh, mamma mia. C'ho pure i nemici. Oh, ma la ricordo sta missione, raga. È quella in cui ci ho messo mezz'ora. È proprio quella dello scorso episodio. Se arriva il tipo con l'aereo, raga, sono morto. Per fortuna che il mio magazzino è qua vicino. Eccolo che mi spara. Orca vacca, lo sapevo. Veloce. Levatevi. Dai che sono arrivato. Ah, ah. Tu con l'aereo non mi hai fatto nulla. Così che si fanno i soldi. Illudendo la gente con gli aerei. Vado al carico speciale 45.000. Visto? Cioè, tre casse mi valgono più del doppio ora. Quando all'inizio... 18.000 dollari io li trasformavo... Non lo so in cosa li trasformavo. Allora ragazzi, dobbiamo una macchinina. Perché mi è ricomparso il simbolo che c'era all'inizio dell'episodio. E io voglio vedere cos'è che fa quel tipo. Abbiamo portato un carico al magazzino. È stato semplicissimo. Però voglio vedere... Eccolo qui. Come si chiama? Lamar. Kendrick Lamar. Mamma mia, che bestia il suo ultimo album. Sit down. Bambo. Ciao Lamar. Allora, che famo? Mi dici che cos'è che fai tu nella vita? Mi spieghi un po'? Oh, guarda qui. Sembra un po' il rapper. Che cosa vuole questo? Deve sapere ragazzi che quando si parla di business bisogna sempre trovare dei soci, dei partner, qualcuno con cui lavorare. Ma questo c'ha le... Guarda gli occhi. C'ha gli occhi gialli. Non è che c'ha l'epatite questo? C'ha problemi di fegato, sicuro. Raga, non so cosa sta coinvolgere la comunità. Non so di preciso cos'è. Ma c'è uno a livello 274. Quindi mi fiderò. Ma... Scegliamo qualcuno di... Vanda... Con l'anone, eh? Con l'anone d'oro. E dai, è pronto a giocare. E io... Guarda come sono vestito bene. Non posso scatenare la guerra tra le gang. Però ci proverò perché voglio vincere questa cosa. Ah, c'ho un livello 200 e passa con me. Ma la grande? Con la giarazzi. Ah, fa guidare me, eh? No, guida lui. Aspetta che salgo, frate. Ok, abbiamo un tot di vite e dobbiamo andare in un posto per scatenare le gang. Ok, questa è una cosa che gli imprenditori fanno, ragazzi, eh? E' una cosa che gli imprenditori fanno. Gli imprenditori giocano col mercato, no? E giocano col mercato fa in modo che magari alcuni litigano con altri. E in questo modo guadagni. E noi dobbiamo guadagnare. Questa è l'idea almeno. Doviamo sparare a qualcuno? Ok, morto. Ma, direi che è un modo efficiente per far spaccare una cosa. Porca vacca. Ma che cosa? Granata, mina di prossimità. Ah, alla grande. Bisogna ammazzarli? Ok, se dobbiamo fare le cose per bene. Oh, fermo, fermo. Oh. Ah, non mi dava le robe. Oh, spara. Ma cosa? Mi hai shottato? Mi hai shottato? Beh, a me mi ha dato dei soldi. Ragazzi, mi sa che, visto che ho perso io, hanno perso tutti. Speriamo di no. È colpa tua, sto fallito. È colpa tua. Allora, ragazzi, per alzarmi un attimo il morale, io direi facciamo così. Facciamo un po' di manovra. Andiamo a fare una rapina classicissima. Per il semplice motivo, che, voglio dire, oltre al carico, sì, varrà pure 45.000 dollari. Però, dammi tutti i tuoi soldi. Dammi i soldi. Dammi. Dammi i soldi. Ti rompo lo champagne. Guarda, arrivo a rompere le bottine di champagne per farmi dare i soldi. Dammi i soldi, se premi l'allarme ti ammazzo. Se premi l'allarme ti ammazzo, ti giuro che ti ammazzo. Veloce. Per il futuro l'allarme non è ancora stato innescato. Allora, sai che faccio? Ti piglio a botte. Porca troia, volevo prendere la botte, giuro. Vabbè, visto che ci sono, l'ammazzo. Vabbè, raga, abbiamo fatto un po' di soldi. Nessun poliziotto. Alla grande. È così, questa è la giornata. Vai in un'area di servizio, la rapini. Ammazzi il tipo. E vai a casa senza polizia. Questa è la giornata. Ragazzi, io direi, per concludere il bilancio di questo episodio e vedere quanti soldi abbiamo fatto, io direi, vendiamo queste tre casse, 45.000 dollari, abbiamo più che raddoppiato il nostro guadagno. Speriamo solamente che ci sia il camion e non altre cose perché ho avuto una brutta esperienza. Ecco, raga, è successo di nuovo. Mi ha messo tutto il carico all'aeroporto. Ma io non so guidare l'aereo. Non è che dici sì, no, devi imparare, devi migliorare. No, raga, io non so proprio guidare l'aereo. Ah, una bella moto, vai che questa va veloce. Attento alle sbarra. Raga, l'ho fatto ieri, questo, e non sono riuscito, sono esploso. Non voglio esplodere, ragazzi. Sei sull'aereo? Quale aereo? Ok, ho mezz'ora per effettuare 20, cioè 3, 3 consegne. Raga, io non sto scherzando, io non so come si vola. Direi, proviamo ad andare sulla pista principale. Porta carico speciale, ma non so come neanche come si, come si consegna. Vabbè, proviamo ad andare qui. Raga, no, 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 porca vacca, sono un coglione. Ho premuto F perché non sapevo che tasto premere, raga. No, vieni qua, aereo, vieni qua. E tu chi sei? Ma! Mi hai fatto spandare con un pugno? Com'è possibile? Ma che pare, quando ci sono i cheater. Carico concluso, sono stati distrutti, grazie a cazzo ci sono gli hacker. Allora, raga, a sto punto io direi, andiamo dove c'è la scuola. Cos'è? Scuola di volo di San Andreas. Ah, noi sono tutti eleganti. Forse era un po' sporco. No, guarda, sono tutti eleganti. Saliamo le scale, raga, andiamo a scuola. Che vi devo dire? Lezioni, parte dal giro della morte estremo. Ma che vuol dire? Vai, facciamo. E io che devo fare? Non lo spendo, mi hai spiegato nulla, frate. Go. Ah, ok, è col mouse che si cambia direzione. Giro della morte. Oddio, che sta a fa' Alla grande. L'ho fatto. Guarda, lo faccio di nuovo. Ha il rischio di morire. Ok, l'ho fatto. Oddio. Raga, è difficile vuoi guidare. Sotto il ponte. Come faccio a farlo sotto il ponte? Ragazzi, non so come farvelo capire, ma io... Non sono capace. Raga, no, mi schianto. Torna su. Ok, ok, lo becco, lo becco, lo becco. Ok. Sotto il ponte. Sì, come cacchio faccio io a fare sto coso? Ci provo, ci provo. Ce la faccio. Vai, ce la fai, ce la fai. Non ce l'ho fatta. È per questo che io dico che abbiamo bisogno degli autisti privati. Non voglio più farlo. Ma... Mi ha fatto spawnare nella zona sbagliata. Ragazzi, ecco perché io incito sempre, ragazzi, per l'autista privato. Non sono capace. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cercherò di fare dei progressi, ovviamente, come cerco di fare tra ogni episodio. Sono anche in contromano. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo nel prossimo video. Riconoscire un mi piace se vi è piaciuto questo episodio. Di iscrivervi al canale se ancora lo avete fatto. E seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto. Ciao, torru torru tutti. Ciao, torru torru torru.